Buonasera, bentrovati. Tra poco non possiamo non cominciare il telegiornale con le parole molto dure, molto forti e molto nette che sono state pronunciate dal Presidente della Repubblica Cinese, Xi Jinping, in merito all'epidemia del nuovo coronavirus che si sta diffondendo nel paese. Nei giorni scorsi il Presidente Cinese aveva cercato di rassicurare la popolazione, ma invece oggi è stato nettissimo. Ha detto che la situazione è grave e che l'epidemia sta accelerando più del previsto. Questo naturalmente ve lo diciamo con tutte le cautele possibili, senza voler fare allarmismo, ma queste sono le parole pronunciate dal Presidente Cinese, il quale ha detto che bisogna anche rafforzare il controllo del potere centrale. Che cosa significhi questo? Naturalmente il linguaggio è quello tipico della Repubblica Popolare Cinese. Che cosa significhi questo? Però si è scoperto subito dopo, quando la TV di Stato ha comunicato che sono sospesi tutti i viaggi dei tour dalla Cina verso gli altri paesi del mondo, mentre i viaggi all'interno della Cina, dei tour operator, erano già stati bloccati ieri. Questo naturalmente perché il contagio, come diceva appunto il Presidente Xi Jinping, sta continuando, sta accelerando. Fino a questo momento si parla di più o meno 1.400 persone contagiate, quasi tutte nella Cina continentale, mentre i 41 morti, 39 di questi 41 morti, sono proprio nella provincia di Hubei, cioè la provincia in cui è compresa la città di Wuhan, dove c'è il focolaio del virus, di questo nuovo coronavirus. Naturalmente quello che preoccupa tutti fuori dai confini cinesi è la possibilità di un eventuale contagio e diffusione all'estero. Su questo le autorità sembrano rassicurare perché non ci sono ancora quegli elementi di preoccupazione mondiale. Cercheremo nel Tre Giornali di spiegarvi anche qual è lo stato dei fatti fino a questo momento, quali sono le decisioni prese dall'autorità e le precauzioni che ognuno di noi deve prendere. Per farlo e per non darvi un'informazione che sia imprecisa abbiamo sentito anche un esperto, che è il presidente scientifico, il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale, Lazzaro Spallanzani di Roma, che ci spiegherà appunto quali sono le precauzioni da prendere. Oggi è stata una giornata particolare però anche per la politica, perché domani, come sapete, si vota in Emilia-Romagna e in Calabria, ci si prepara a rinnovare il Consiglio regionale e i governatori di regione, ma questo è un voto che avrà un impatto forte anche a livello nazionale. Oggi sarebbe stato il giorno del silenzio elettorale, in realtà sentirete che non si sono silenziate le polemiche tra i due schieramenti, proprio per questo motivo e la partecipazione dei leader politici principali durante la campagna elettorale è proprio il segno di quanto sia importante questa tornata elettorale. Poi ci occuperemo anche di un'altra questione, della giustizia, perché si è inasprito lo sconto tra il ministro Bonafede e l'Associazione Nazionale Magistrati, che è quello che viene per brevità definito il sindacato dei magistrati delle TOG, e in particolare sulla durata dei processi. Sono dichiarazioni molto dure, sentirete. Così come sono molto dure le dichiarazioni del Comitato di Difesa, del Presidente degli Stati Uniti Trump. Oggi era il loro turno nelle udienze per l'impeachment, a cui Trump è sottoposto in Senato, e sentirete anche lì sono volate parole grosse, soprattutto si è ribaltata la questione additando il processo di impeachment come esclusivamente, questa è la tesi naturalmente della difesa, a un processo politico. Sentirete, intanto tra 30 secondi sentiamo insieme i titoli. Il contagio da coronavirus in Cina. Fino ad ora sono 41 le vittime, 1.400 i casi accertati, ma il Presidente Xi Jinping lancia l'allarme. Il virus si diffonde rapidamente, dice. La situazione è grave. Chiuse 13 città, oltre 50 milioni di persone isolate dal resto del paese. A Wuhan, dove è partito il focolaio in costruzione, un secondo ospedale da 1.300 posti. Il virus arriva anche in Europa, tre casi confermati in Francia, ma tutti in via di guarigione. Emilia Romagna e Calabria si preparano al voto per il rinnovo dei consigli regionali e l'elezione dei nuovi governatori. In gioco c'è la tenuta della maggioranza, anche con il centrodestra che vuole mettere pressione al governo Conte. Domani dalle 23 con l'inizio dello spoglio comincia la maratona sulla 7, condotta da Enrico Mentano. Dopo le regionali si annuncia attenzione sulla giustizia. Oggi dura presa di posizione del sindacato dei magistrati sulla bozza di riforma firmata dal guardasigilli Bonafede. I tempi rigidi per i processi sono un'idea brutale, dicono, perché la durata dipende dallo scrupolo con cui vengono accertati i fatti, dice l'ANM, che respinge dunque al mittente anche le possibili sanzioni previste per i giudici. Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Giulio Reggeni, rapito il 25 gennaio del 2016 e trovato morto in Egitto lungo l'autostrada che dal Cairo porta ad Alessandria una decina di giorni dopo. I responsabili dell'omicidio e delle torture non sono stati individuati e sono ancora molte le zone d'ombra nell'inchiesta. Oggi in oltre 100 città italiane ci sono state manifestazioni e fiaccolate proprio per ricordare Giulio e chiedere giustizia. Impresa delle ragazze dello sci in Coppa del Mondo nella discesa libera di Bansko in Bulgaria, podio tutto azzurro con Elena Curtoni prima, Marta Bassino seconda e Federica Brignone terza. Un altro straordinario record per la nuova valanga rosa. Buonasera, ben trovati. Allora oggi in Cina è il giorno in cui si festeggia l'inizio del Capodanno Lunare, l'inizio del nuovo anno, ma forse mai un anno è iniziato sotto auspici così negativi per questa epidemia che si sta diffondendo nel paese di un nuovo, un'epidemia influenzale il cui responsabile sarebbe un nuovo coronavirus. Sono molte le notizie che arrivano soprattutto legate anche agli spostamenti interni dovuti al Capodanno cinese. Si tratta di una migrazione di massa all'interno della Cina molto molto ingente perché tutti i lavoratori migranti nelle zone più povere che lavorano, quindi nelle zone costiere, nelle città più urbanizzate, ritornano a casa, quindi si spostano nelle zone rurali più povere. Proprio questi spostamenti probabilmente stanno provocando un'espansione, una diffusione del virus maggiore del previsto e anche per questo il presidente Xi Jinping oggi è stato molto duro nella discrezione dello Stato dei fatti. La diffusione del virus accelera, la situazione è grave. Xi Jinping non si nasconde parlando in occasione di una riunione del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese e annuncia la costituzione di un comitato ristretto per affrontare la crisi. Possiamo vincere la battaglia, aggiunge, mentre le misure per contenere l'infezione si fanno di ora in ora più draconiane. Il cordone sanitario disposto da Pechino copre ormai l'intera provincia dello Hubei, da Wuhan, dove da domani sarà vietata anche la circolazione delle auto private in centro, ad altre 15 città alle quali è stato esteso il blocco dei trasporti e la chiusura dei luoghi aperti al pubblico. In totale 56 milioni di persone sono state messe, di fatto in quarantena. A Wuhan, la città focolaio dell'infezione, dove sono in arrivo circa 1200 dottori, oltre all'ospedale in costruzione che sarà pronto in dieci giorni, verrà edificato un altro nosocomio e in tutto il distretto 10.000 posti letto dovranno essere messi a disposizione dei contagiati. Le autorità cinesi hanno già ordinato alle agenzie di viaggio di bloccare i tour di gruppo. Controlli antivirus saranno disposti su aerei, treni e autobus in tutto il paese. A Pechino, da oggi è vietato l'accesso alla città proibita e a tratti della grande muraglia. A Shanghai è chiuso il parco di Disneyland che accoglie quasi 12 milioni di visitatori l'anno. L'obiettivo, naturalmente, è limitare al massimo spostamenti e contatti, soprattutto in un periodo che in Cina coincide con quello delle festività del Capodanno Lunare. Provvedimenti che tuttavia non hanno impedito la diffusione del virus ben oltre lo Hubei, dove si concentrano quasi tutte le 41 vittime fin qui accertate, tra le quali anche un medico. In tutto il paese sono circa 1.400 i pazienti affetti da coronavirus. Solo in Tibet non ci sono casi 5 quelli registrati a Hong Kong, dove la governatrice Carrie Lam ha dichiarato lo stato d'emergenza annunciando il blocco di tutti i collegamenti da e per Wuhan. Ma potrebbe essere solo la punta dell'iceberg se i dati dell'Università di Lancaster in Gran Bretagna, che parlano di appena un 5,1% di contagi identificati, e della possibilità che in due settimane le persone colpite diventino solo a Wuhan, 350.000 dovessero rivelarsi veritieri. C'è poi il rischio, sottolineato da uno studio della rivista scientifica The Lancet, che il virus possa essere diffuso anche da portatori sani, ovvero da soggetti totalmente asintomatici. Naturalmente per la Cina questa è una doppia sfida, sul piano sanitario, come è evidente, ma anche sul piano politico, per cercare di urbanizzare e rendere più forti le città, le zone più povere del paese. Per questo anche, in particolar modo in questo periodo in cui l'economia è in calo, e quindi garantire un livello di vita medio-alto anche alle popolazioni più povere del paese. Anche per questo, vi dicevo, la reazione, la tempistività della reazione del governo è importante da un punto di vista politico. Così come è importante evitare che il contagio dall'interno della Cina possa propagarsi senza controllo fuori dai confini. Per capire qual è la situazione abbiamo anche chiesto il parere, soprattutto quali precauzioni dobbiamo ottenere, abbiamo chiesto il parere al direttore scientifico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, il professor Ippolito, per capire quali sono effettivamente i rischi, senza inutili allarmismi. Con tutti gli organismi preposti e attivati, il rischio di propagazione del coronavirus a livello internazionale è sotto controllo. Come nei giorni scorsi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche il Centro Europeo di Controllo e Prevenzione delle Malattie ha escluso per il momento il rischio pandemia, precisando che se da una parte è verosimile che si verificheranno nuovi casi, i paesi europei sono dotati di strumenti in grado di prevenire un'epidemia una volta individuati i primi contagi. Come sta avvenendo in Francia, primo e per ora unico paese europeo con tre casi di polmonite da coronavirus accertati su cittadini rientrati dalla Cina e ricoverati in isolamento a Parigi e a Bordeaux, due sono in via di guarigione. I casi francesi non cambiano la situazione e non significa che il virus si trasmette nei paesi europei. Sono tutti correlati a viaggi e soggiorni nella zona di Luana, quindi da un punto di vista epidemiologico e di trasmissione non cambia niente. Le misure da prendere sono esattamente le stesse, attenzione ai contatti stretti e ravvicinate, con persone che hanno soggiornato negli ultimi 15 giorni nelle zone colpite, con lo specifico della zona di Luana. Una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea è prevista per lunedì. In casi come questo serve uno stretto coordinamento tra le autorità dei diversi paesi. Al momento i casi accertati al di fuori della Cina sono in tutto 38, la maggior parte in paesi asiatici, Tailandia, Malesia, Taiwan, Corea del Sud, Vietnam, Singapore e Giappone. In Australia sono quattro, a Melbourne, nel Nuovo Galles del Sud, persone che sono state in Cina e a Wuhan di recente. Ha accertato anche il secondo caso negli Stati Uniti, una donna rientrata dalla Cina a Chicago. Washington ha avviato l'evacuazione di cittadini e diplomatici americani, circa un migliaio da Wuhan. Verranno trasportati su aerei con a bordo personale medico, pronto a trattare i casi sospetti. Tanto vi dovevamo per capire questa emergenza di cui naturalmente tutti parlano e tutti si preoccupano in queste ore. Ma oggi è una giornata particolare anche perché domani due regioni del nostro paese vanno al voto per rinnovare i presidenti e il Consiglio regionale, ovvero Emilia Romagna e Calabria. Sono due sfide importanti. Sfida peraltro si chiamerà, tra poco vi dirò la lunga maratona che ci sarà domani, ma ne parleremo tra poco. Vi dicevo una sfida che ha un impatto a livello nazionale molto importante, non solo regionale. Lo si è visto anche durante la campagna elettorale per la partecipazione dei leader importanti che sono scesi in campo. In Emilia Romagna sarà una sfida a sette, particolarmente delicata perché alle ultime elezioni il centrodestra ha raccolto ampi consensi in una regione tradizionalmente rossa. Ricorderete che il centro-sinistra ha perso anche Forlì e Ferrara. È stato un segno importante. Dunque lì la sfida è particolarmente delicata, ma lo è altrettanto in Calabria. E per queste sfide c'è anche un'incognita in più questa volta, il cosiddetto voto disgiunto, quel voto che è stato concepito, è previsto per alcuni comuni, sopra i 15 mila abitanti in alcune regioni, in Calabria no, solo in Emilia Romagna, per valorizzare più il candidato che l'appartenenza al partito. E sarà di rimente. Vediamo. Dalle sette alle ventitré, orario continuato. Si gioca in sedici ore domani la sfida più importante. Una sfida che dall'Emilia Romagna fino alla Calabria porta direttamente a Palazzo Chigi, dice il centrodestra. Test dal valore solo locale, replica il centrosinistra. Oggi giornata di silenzio, ma il PD denuncia continue violazioni da parte della Lega. Insediati i 16 mila seggi elettorali, dove gli elettori saranno chiamati a votare per eleggere i presidenti di giunta e assemblee legislative delle due regioni. Complessivamente, gli eventi diritto al voto sono oltre 5 milioni, 3 milioni e mezzo in Emilia Romagna, 1 milione e 800 mila in Calabria. Partecipazione e voto disgiunto sono le parole decisive della doppia sfida che ha in Emilia Romagna, la regione rossa, la maggiore chiave di interesse politico. Con Lucia Borgonzoni, centrodestra, che punta a spodestare il presidente uscente, Stefano Bonaccini, centrosinistra. I 5 Stelle hanno un loro candidato, Simone Benini. E proprio attorno a lui si gioca la possibilità del voto disgiunto che andrebbe a favorire Bonaccini. Si può infatti votare per un candidato presidente per una lista che sostiene un altro aspirante governatore. Possibilità che invece non esiste in Calabria in virtù di una diversa legge elettorale. Qui si vota prima della scadenza naturale della legislatura a causa delle inchieste giudiziarie che hanno travolto il governatore Mario Oliverio del PD. In pista col centrosinistra c'è un candidato civico, l'imprenditore del tonno Pippo Callipo, mentre il centrodestra punta su Iole Santelli, deputata di Forza Italia ed ex sottosegretaria alla giustizia. I 5 Stelle propongono il professore universitario Francesco Aiello. La 7 seguirà questa tornata elettorale a partire dalle 23 di domani, quando chiuderanno i seggi con una maratona condotta da Enrico Mentana. Che si chiamerà proprio la sfida, questa lunga maratona che comincia alle 23. Ci saranno come sempre gli inviati del telegiornale nelle due regioni di interesse. Poi ci saranno gli ospiti, ve ne dico qualcuni, ma sono numerosi. C'è Paolo Mieli, Franco Bechis, Marco Damilano, Lina Palmerini, Tommaso Labate, Mario Secchi, Marcello Sorgi. Commenteranno i risultati delle regole, si daranno, come si dice, il cambio, il turnover, fino alla mattina e durante la notte e la mattina ci saranno i dati forniti dall'SVG, che sarà invece in collegamento da Milano. Ma c'è un altro tema di cui si discute in queste ore, oltre che alle elezioni regionali. Si discute di giustizia, perché oggi si è riunito il parlamentino dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati, quello che per brevità viene definito il sindacato delle toghe dei magistrati, che ha mandato un messaggio molto duro, molto netto, di contrarietà nei confronti di alcuni punti sostanziali, peraltro, della riforma buona fede sulla giustizia, in particolare per quel che riguarda la durata dei processi e le eventuali sanzioni che potrebbero essere previste per quei magistrati che non rispettano appunto quei tempi. Dopo le regionali, il primo scoglio sul cammino della maggioranza è già in vista e sarà sulla giustizia, alla Camera, dove tra lunedì e martedì andrà al voto la proposta dell'Azzurro Enrico Costa di bloccare lo stop alla prescrizione in vigore dal primo gennaio, come da riforma buona fede varata ai tempi del governo giallo-verde. Uno scontro ancora aperto e che potrebbe approfondirsi nella maggioranza, nonostante un primo compromesso raggiunto tra 5 Stelle e PD, ma rifiutato da Italia Viva di Matteo Renzi. Compromesso che prevede lo stop alla prescrizione solo nel caso di condanna al processo di primo grado. In caso di assoluzione la prescrizione rimane fissata dopo due anni. Si prevede inoltre una tempistica obbligata per la durata dei processi che non dovrebbero prolungarsi oltre i quattro anni, con sanzioni per i magistrati che per dolo o negligenza allunghino i tempi della giustizia. Elemento questo che oggi ha provocato la reazione dura del sindacato dei giudici e l'associazione nazionale magistrati, favorevoli invece allo stop alla prescrizione. In vista dell'incontro già fissato mercoledì prossimo con il ministro Bonafede. Brutale, secondo l'ANM, l'idea di stabilire tempi rigidi per la durata dei processi. La messa in mora sarebbe irrealistica perché a dire del segretario dell'associazione Giuliano Caputo i tempi dei processi non dipendono dal singolo magistrato ma dallo scrupolo con cui vengono accertati i fatti. Non piacciono ai giudici i termini perentori dai 6 ai 18 mesi fissati dal testo Bonafede per le indagini preliminari con l'apertura di procedimenti disciplinari in caso appunto di responsabilità accertata degli inquirenti per i tardi superiori ai tre mesi dal termine ultimo. Il PM allora avrebbe il dovere di rendere pubblico indagato e parte offesa alle carte delle indagini giocare insomma a carte scoperte. Ma l'idea di sanzioni disciplinari è irricevibile, ribatte il presidente dell'ANM Luca Poniz una valutazione demagogica che dà l'idea di una predeterminazione dei tempi come se il mancato rispetto dipendesse solo dai magistrati e non da elementi fattuali. Tra l'altro un prossimo scontro sempre sul tema della giustizia potrebbe esserci già la prossima settimana tra lunedì e martedì all'interno del mondo politico perché verrà presentato in aula la proposta dell'Azzurro Costa che vuole bloccare lo stop della prescrizione che come sapete è in vigore dal primo gennaio secondo la riforma Buonafede quindi vedremo anche lì i vari schieramenti come si posizioneranno. In una giornata in cui è intervenuto il capo dello Stato in maniera indiretta rispetto al mondo politico auspicando ancora una volta come spesso gli è capitato di fare concordia e fraternità questo ha detto oggi il capo dello Stato Mattarella le nostre democrazie hanno bisogno del senso di fraternità perché senza di essa rischiamo di essere esposti al dominio dei soli interessi rischiamo di non avere la forza per superare le diseguaglianze che sono crescenti e di impedire la legge del più forte. Sicuramente la legge del più forte nella maniera più brutale e spietata possibile ha prevalso nel caso di Giulio Reggeni esattamente quattro anni fa lo ricorderete era il 25 gennaio del 2016 scompariva il dottorando Giulio Reggeni che stava appunto portando avanti la sua ricerca e il Cairo in Egitto per essere poi ritrovato qualche giorno dopo morto in fin di vita senza vita con evidenti tra l'altro segni di torture. Oggi in tutta Italia si è voluto ricordare la figura di Giulio Reggeni per chiedere ancora una volta giustizia perché quello che brucia di più dopo questi quattro anni e che non sono noti né i mandanti né i responsabili e ci sono ancora dei punti molto scuri nell'inchiesta che riguarda la morte di Giulio Reggeni insomma non è davvero ancora il momento di commemorazioni serene. Quattro anni bui senza verità né giustizia per invocarle migliaia di fiaccole in decine di città si sono accese a Roma come a Palermo a Milano come a Fiumicello provincia di Udine il paese natale di Giulio Reggeni il ricercatore Friulano scomparso alle 19.41 del 25 gennaio 2016 a Il Cairo dove si trovava per una ricerca per l'Università di Cambridge il suo corpo venne trovato quasi dieci giorni dopo vicino alle corsie dell'autostrada che collega la capitale ad Alessandria d'Egitto tra le tante persone venute per ricordare Giulio come ogni anno c'è anche la madre Paola Defendi che oggi su Facebook ha ringraziato chi insieme alla famiglia chiede ancora gran voce e risposte per una verità ancora lontana troppe le domande aperte scarsa per non dire inesistente la collaborazione delle autorità egiziane che negano le informazioni richieste attraverso le rogatorie dagli investigatori italiani 5 agenti della National Security del Cairo sono iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta avviata dalla Procura di Roma 5 funzionari indagati per sequestro di persona per cui l'Egitto si rifiuta persino di fornire i dati per le notifiche chiesti lo scorso 30 aprile da allora mai una risposta nel periodo precedente ci sono stati anche i numerosi tentativi di depistaggio almeno 4 tra cui l'ipotesi rivale la tassi falsa della banda di rapinatori che avrebbero sequestrato il ragazzo e una serie di muri alzati contro ogni tentativo di avvicinarsi a una ricostruzione veritiera di quanto accaduto Reggeni fatto passare come una spiola vittima di un incidente stradale ma sicuramente torturato prima di essere ucciso quel che è certo per gli inquirenti e il coinvolgimento degli apparati egiziani che avevano messo sotto stretta osservazione Giulio Reggeni per le sue ricerche sul lavoro in Egitto attraverso un sistema di spie travestite da amici che avrebbero riferito al governo i colloqui avvenuti con il ragazzo ma per capire cosa abbiano raccontato quali siano state le motivazioni per le quali Reggeni è stato rapito torturato e infine ucciso servono risposte dalle autorità egiziane dunque vi devo dare notizia di un'altra richiesta di un salvataggio nel mar Mediterraneo davanti alle coste libiche dove naturalmente si susseguono i salvataggi da parte delle navi ONG e poco fa l'Alan Kurdi ha messo in salvo 16 persone sull'imbarcazione dell'ONG Sea Watch ci sono adesso 78 migranti queste che vedete invece sono le immagini del salvataggio che è stato fatto all'alba dai volontari di Ocean Viking che hanno soccorso 59 persone in difficoltà su una barca di legno portando a 151 i migranti a bordo del rimorchiatore di OSOS Mediterranei e Medici senza frontiere e ancora proprio poco fa via Twitter Alan Forna Alan Forna è la piattaforma alla quale si rivolgono i migranti proprio per il soccorso in mare ha reso noto che altre 120 persone su due diverse imbarcazioni sono in pericolo siamo sempre nella zona SAR cioè la zona di ricerca e soccorso che è di competenza maltese tra le notizie principali c'è sicuramente dall'estero quella che riguarda l'impeachment del presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi ci sono due fatti importanti il primo è che la ABC l'emittente americana ha diffuso un audio in cui lo sentirete Trump chiede ai suoi sottoposti di rimuovere l'ambasciatrice in Ucraina americana e questo sarebbe un fatto forse non troppo rilevante se non fosse che una delle testimoni del processo di impeachment naturalmente bisognerà capire se ha una rilevanza giudiziaria perché probabilmente rientra nelle prerogative al di là dei modi trampiani la possibilità di rimuovere un ambasciatore però vi dicevo l'altro fatto importante è che cominciata l'audizione del comitato di difesa di Trump al Senato proprio per il caso impeachment naturalmente l'intenzione è stata quella di metterla subito su un piano politico e non soltanto giudiziario a parlare è stato il capo del gruppo Cipollone sentite quello che vi stanno chiedendo è non solo di rovesciare i risultati delle elezioni del 2016 in sostanza di stracciare milioni di schede elettorali ma anche di rimuovere il presidente Trump da quelle del 2020 impedendo agli americani di decidere è un inizio tutto politico senza entrare nel merito dei fatti e dei capi d'accusa quello di Pat Cipollone il capo del team di avvocati che difende il presidente nel processo di impeachment davanti al senato sono le parole che almeno la metà degli americani quella che vota per Donald Trump vuole sentire ad entrare nei particolari ci pensa il suo vice Mike Purpura partendo proprio dall'elemento chiave dell'accusa quid pro quo lo scambio di aiuti militari all'Ucraina che il presidente avrebbe bloccato per forzare il suo collega Zelensky a ordinare la riapertura dell'indagine su Joe Biden e sul figlio Hunter era allora nel consiglio di amministrazione di una compagnia locale la Burisma il quid pro quo non è mai stato provato dice Purpura non un solo testimone lo ha confermato solo l'ambasciatore presso l'Unione Europea a Sondland ha pensato che ne esistesse uno ma riguardo alla visita di Zelensky alla Casa Bianca e non agli aiuti l'avvocato del presidente sottolinea inoltre che spetta solo a Donald Trump dettare la linea della politica estera americana solo il presidente può decidere come parlare ad altri capi di stato non spetta a chi ascolta le sue telefonate inoltre il presidente ha il pieno diritto di cacciare un ambasciatore che non ritiene adatto a ricoprire il proprio ruolo anche se lo fa in questo modo lo stile di Trump può non piacere ma non è causa di messa in stato d'accusa che la telefonata di Trump con Zelensky non presenti alcun abuso di potere lo si evince e spiega sempre purpura da due elementi il primo l'Ucraina non sapeva che gli aiuti erano stati bloccati dunque Zelensky con Trump non ha sentito alcun elemento di coercizione il secondo è l'invito esteso del presidente al collega a Washington in una porzione di telefonata dice purpura che i democratici cercano sempre di tenere nascosta la giornata per la difesa si chiude con una domanda dell'avvocato della Casa Bianca Cipollone ai senatori chiedetevi se tutto quello che avete sentito qui oggi e nei giorni passati sia sufficiente a rimuovere il presidente degli Stati Uniti dal suo incarico o se non sia un abuso di potere il vostro non quello di Trump impedirgli di essere candidato alle prossime elezioni Ancora dall'estero vi devo dare un aggiornamento sulle vittime causate dal terremoto che ha colpito ieri la regione della Turchia la provincia orientale di Elasig è salito a 21 il bilancio dei morti mentre a 12 ore dal sisma i soccorritori hanno estratto ancora 5 persone vive dalla mecere tra cui una donna incinta le ricerche stanno continuando naturalmente in queste ore ancora ci sono almeno 30 persone disperse anche se la regione colpita che più o meno dista 500 chilometri da Ankara è molto remota è scarsamente popolata dunque le informazioni riguardo ai morti ai feriti potrebbero emergere lentamente adesso prima di fermarci anche se facciamo un salto emotivo forte non possiamo non fare i complimenti per la spettacolare tripletta azzurra che le sciatrici italiane femmini le hanno conquistato oggi nella discesa di Bansko in Bulgaria è il podio nazionale l'inno cantato a tutta voce da queste sorelle d'Italia che si sono buttate giù anima e corpo su una pista ghiacciata di Bansko in Bulgaria un 2-3 azzurro pieno firmato Curtoni Bassino e Brignone la prova vivente di uno sci alpino italiano che le ragazze stanno portando sempre più in alto e la vittoria di Elena Curtoni la prima in Coppa del mondo ha un sapore particolare sì perché Elena ha 28 anni ha avuto una carriera difficile costellata da infortuni l'ultimo nel novembre 2017 la rottura del legamento crociato ama la pittura e non è difficile dire che oggi ha dipinto le traiettorie più belle ed efficaci che l'hanno portata in cima favorita anche dalle condizioni meteo che hanno reso la discesa più facile da interpretare ho solo pensato spingi spingi più che puoi sei lunga non importa spingile cerca di stare in linea spingi fino alla fine sono arrivata in fondo ho visto la luce verde e non ci volevo chiedere ho detto ma come è possibile Marta Bassino che ha chiuso seconda a 10 centesimi dalla Curtoni ha sperato fino all'ultimo di vincere sapevo però che la visibilità sarebbe migliorata discesa dopo discesa con l'arrivo del sole quando ho visto Micaela Schifrin arrivarmi dietro ha detto ho fatto un pensierino alla vittoria come del resto Federica Brignone che se non avesse commesso due errori importanti probabilmente avrebbe chiuso in testa ma come lei stessa ha tenuto a sottolineare le era già capitato altre due volte a Bad Klein-Kirchheim e ad Aspen di far parte di un terzetto azzurro da podio e sì perché questa è la quarta tripletta al femminile in Coppa del Mondo manca all'appello la prima che fu nel 96 a Narvik in Norvegia quando in slalom gigante Deborah Compagnoni si lasciò alle spalle Sabina Panzanini e Isolde Kostner ma ora 24 anni dopo gli sci puntano il super gigante di domani sempre a Bansko sempre con le azzurre a caccia di punti e di gloria ci fermiamo qualche istante poi vi aspetto per tutti gli aggiornamenti eccoci nuovi in diretta stavo controllando ma non ci sono ulteriori notizie da darvi o ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento naturalmente a domani ricordandovi che alle 23 parte lo speciale la sfida la maratona mentana sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria con aggiornamenti dati e informazioni dalle regioni e con il solito commento in studio grazie per l'attenzione buona serata